Il concerto del pianoforte orchestra in Don Maggiore è un concerto dedicato a Benedetti Michelangeli che però per qualche ragione misteriosa non ha mai suonato. Il concerto ebbe una genesi abbastanza travagliata per la verità. Grosso modo l'impianto è sempre stato ben delineato, ben definito, però vuoi una certa propensione al perfezionismo di Michelangeli, vuoi l'assoluta disponibilità di Rota a modificare in base alle richieste degli esecutori i suoi lavori, ecco questo concerto non è il battesimo della sala da concerto. L'impressione che mi dà questo concerto è che Nino Rota sognando entri nel mondo del classicismo e naturalmente si porti dietro la propria esperienza del Novecento e vada a rompere i meccanismi di un classicismo. Sono molto legato a questo concerto perché in effetti io lo studiai per in tre giorni perché dovetti sostituire il pianista disegnato che diede Forfait al Festival di Colbar del 2000 che era dedicato a Michelangeli e quindi contenne nel suo programma, nel suo palenzesto ecco il concerto in Do di Rota. Grazie a tutti. 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 a tutti.